a un belissimo non si è certo spieghi cosa fai c'è sempre oddio queste c'è gli occhi il diritto un po' di il ma sicuro che spero da te si diverti non fa così ciao pietro stai a posto la rega sparita troppo non stai spostando a credere mi sono convinti dai pietro vai via che devo mettere la guerra a cristo se sei davvero tu ti amo se sei tu ti sposo dove sei ti sposo ragazzi che è successo v'ho trollato alla grandissima è un troll è un troll ahahah nello vi ho dovuto registrare ragazzi però ti sposo dai ti sposo dai allora se sei uguale, scrive se vuoi hai un canale, mi iscrivo si ce l'ho un canale mi iscrivo, ti seguo ma nace la morte crealo, crealo, ce l'ho il canale no, hai un canale, si si si, no, hai un canale, si si si, no, si ha detto si come si chiama? come si chiama? tolto l'ho linkato jambo ok perfetto allora si scriveremo a metterlo in grado a tutto a posto